Un saluto a tutti i campanari di YouTube, ci troviamo a Barolo dove abbiamo un concerto di tre campane non so in che nota perché non le ancora sentite, mai sentite e abbiamo due chiese, abbiamo la prima chiesa che è l'originale e si chiama San Domenico San Donato scusate, abbiamo un concerto di tre campane, è anche abbastanza un bel campanile sono tre campane, quello lì davanti è la prima e niente e cioè è abbastanza bello la facciata poi abbiamo la seconda, c'è questa chiesetta che è tutta gialla e abbiamo quella chiesetta dove c'è una campana nuova appena fusa perché si vede credo che sia di mazzola, probabilmente non lo so perché non si vede da vicino purtroppo cercavo qualcuno come la facesse vedere da vicino, specialmente il campanile però non c'è nessuno e quindi c'è quella campana col battacchio che probabilmente sarà fusa da mazzola adesso aspettiamo il mezzogiorno, non ho mai sentito, non ho mai sentito, mai sentito niente neanche la tonalità delle campane e aspetteremo il mezzogiorno e vedremo cosa suona aspettiamo aspettiamo Grazie a tutti. 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 Adio. 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 Adio.